Musica 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 Hello guys, siamo di nuovo qui su Don't Starve Yeah Allora prima che vi fate domande perchè siamo così avanti ogni giorno purtroppo mentre cerchiamo di entrare nel server quando un tipo viene avviato il server comunque continua ad andare avanti quindi c'è quel piccolo momento tra il login e tutto quanto che metà giornata va a farti sottere Sì, eh, diga qui guarda Andrea Sono funghi quelli eh Ah no, sono funghi Oh, che famo? Ma non ci sono ancora dei testo rapide tanto Eh sta già diventando notte Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua intorno Sto facendo ste bacche giusto forfano Che me magno Faccio un altro albero da togliere Beh neanche sti ramoscelli che si piantano vicino a casa Ma sono già attaccati vicino a casa quindi non è senso dobbè Mettere il doppio del tempo di crescere quindi Siamo sempre intorno a casa Allora Superata questa bella notte Io personalmente andrò a cercare un caro vecchio amico Molto caro Molto vecchio Molto amico Che però non spoilerò a chi guarda il video Diciamo solamente che nel trial Lo abbiamo trovato Esattamente Coridan sta giocando a Warframe No Warhammer Scusa Ma chi è Warhammer Andiamo a vedere un po' come siamo messi al cibo nel frigo Abbiamo 20 semi 5 ghiaccio 2 Corn 8 Pitch Dobbiamo fare quello per far crescere più la cemento del cibo Dobbiamo fare L'improvered farm Che possiamo farla Solamente ci serve la cacca Basta far mangiare quei dannati maiali Appunto Però il problema è che sono i fiori Trovalli fiori da Per fargli li mangiò Gli faccio un'altra pala Gli faccio anche Questo Ok Non so cosa serve esattamente Ma Adesso sei per Lingare il terreno Stai mangiando Come un dannato Cuciniamo un po' di roba Cucca 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 E ho un po' di cibo No 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 maledetto Questi semi li volevo Che è successo? Niente Cucciolo mi ha fottuto I semi che stavo raccogliendo Ho quel fuoco Si sta per spegnere però Bra Non abbiamo legno Come non abbiamo legno? Mettici quello che hai tu di legno Se no ci sono i ramoscelli ma non durano un cazzo Io ho due di legno Sì ho otto scusa Sì ho buttato tutto dentro la cesta tanto Non mi servono un cazzo niente Oddio Una cetta No vabbè la cetta ce l'ho al piccone Ne faccio a me No Beh come mai ho le occhiaie? Perché non dormiamo mai Dovremmo fare i letti per dormire Si converrebbe Si converrebbe Per fare i letti? Dove sono i letti? Non lo visti prima Aspetta che li trova Io intanto vado a cercare fiori E roba importante Per far crescere le cacche Allora per fare i letti Eccoli qua Trollroll Servono sei ripaglia e una corda Ne possiamo fare 47 Sì E dopo ne facciamo che meno togliamo Facciamo una dormita e ci riposiamo Ma in quel modo si salta tutta la notte o come funziona? Si salta la notte e si recupera l'energia aperta Più sanità mentale abbiamo infatti No no Cazzo Possiamo fare un milione di equiletti allora Ma non volevi andare di sotto dall'altra zona? Guarda io non sono mai andato a destra Lungo la stradina Perché dove stai andando tu non sono mai andato Per questo manco io Noi ci siamo arrivati dai E neanche sopra Aspetta io vado sopra a questo punto Io non sono neanche andato mai sopra Sopra di qua Io non mi ricordo C'era una zona dove ho trovato tanti fiori Se li trovi i fiori Prendili più che puoi C'erano più fiori che cibo Perché? Perché con i fiori facciamo altre farm Con il cibo Pian piano lo finiscono Ah Perché vuoi farli cagare Esatto Purtroppo C'erano a questo Guarda qua Qua c'è una palude Ma sai che mi sta avendo dubbio? Questi bridge nut Non è che sono ghiande Sono... Come si chiamano? Ghiande, sì Sono ghiande No, ghiande Castagne Eh, più o meno Perché avrebbe senso il fatto che C'hanno gli spinni nella... Nello sprite Mentre c'hai negli inventari C'avrebbe senso il fatto che le cuoce e le mangi Oppure le semini Ma non li puoi bruciare Mh Favrebbe un qualcosa di senso Potrebbe anche essere Si impara l'inglese Con i giochi E gli dice che i giochi non c'erano a nulla Un flower Questa è quella strada della palude Che dà un po' di forza Attento alla sanità mentale Stanno anche qui Rimango sulla stradina, quindi Questa è la strada di sanità Ok, qua... Qua ho trovato... Eh... Gli arieti di metallo E' uno dei monumenti Qua ho trovato un'altra tauston Per tornare in vita Meglio così Almeno le abbiamo già scoperte due sulla mappa Possiamo tornare in vita due volte Io però non sono stato Quindi non la posso vedere Questa è anche vera Caso... Dovessi morire io Sato abbiamo... Abbiamo quella vicino casa comunque Ah ma perché? Non si ha nulla? No, perché l'ho usata io Per me è nullata Per te è ancora intera Ok, buono, buono E qua c'è un... Adesso se dovessi morire mi conviene quasi morire... Cioè quasi rinascere ancora più lontano In modo che... Per la vicino a casa Mi rimane comodo A portare la mano Ok, sono entrato in un wormhole E non so dove sono finito Ma come sei entrato dentro il wormhole? Sì, sono entrato a vedere un po' dello stesso confinito Ah, sono... Qua vicino casa No... Sì, è un... Simpatico Io mi sto votando Fottendo un sacco di cielo Sono lontanissimo da casa Eh, sa che tra poco Sto iniziando a vivere già il tramonto Sì, ma... Penso di riuscire a tornare di tempo Poi ha aperto dei casi sulla torcia Sì, ma... Dovremmo provare a dormire Sì, no Devo dormire insieme Oh, devo essere bruttissimo Aiuto Sembra un... Tacchino però... Ricoperto di spine Ecco, lasciali in pace Un occhio solo Lasciali in pace Tanto che è cattivo Mi sa di sì Tanto che siamo nel tuo video Ne approfitto per chiedere scusa alla gente che avrà visto i video passati caricati nel mio canale se qualcuno l'ha visti Con un audio di scena abbastanza basso Purtroppo stavo provando ad usare DixTory Solamente che DixTory Insieme a campare se non mi fa modificare entrambi gli audio Me ne fa come modificare uno solo Il problema è che il suo audio era venuto un pochino basso Yeah E quindi per cercare di più o meno gestirlo un pochino meglio Il problema è che è venuto un po' così e così adesso Dai prossimi video proverò ad usare altre impostazioni Proverò ad usare traps magari Che è quello che usa anche lui quindi Yeah Solamente che non so quali programmi così per renderizzare tutto Non c'è niente del programma di render E invece sì perché sono alcuni programmi poi Puoi modificare come cazzo te pare l'audio 1, audio 2 Su alcuni come Camtasia invece c'è solamente l'audio 1 Ho ucciso una talpa All'oreletti ha detto si fanno con Mi pare o sei o quattro Un po' ripaglia e una corda Ah i straw roll Sì Ok uno l'ho fatto Uno non sono riuscito a farlo Era un cibo cotto Più mi niente di mangiabile Ma se non uso singolo? Non lo so Se ne crafto uno anch'io Ora che siamo ad uso singolo veramente No aspetta che metto il fuoco Non riesce a craftarmi uno diretto Eh devo prendere la paglia Ma ma l'ho preso io l'ho già preso io Togliti Sempre in mezzo alle palle Non dico cosa sto facendo Ma te lo craftavo ma hai detto Non è che riesce a craftarmi Non ho niente da mettere sulla legna E la legna è qua nel No la c'avevo Per fortuna Che fammi la tempo cucinare Dormiamo? Vai a uccidere quel corvo un secondo prima Quello lì a destra che sta dormendo Un attimo Sì mentre cazzo il letto Come funziona? Come si usa? Non ne ho idea Ah le vilcari sotto personaggio Vabbè ormai non conviene dormire Ma dai proviamoci Giusto per vedere come funziona Va bene Il flip Ah proprio così Ah proprio Tra un po' prendo fuoco Effetti Praticamente se ci attacca Non muoviamo malissimo No perché possiamo muoverci in qualsiasi momento Svegliarci Vabbè non è Non ho messo malissimo con la fame Però è finito Cioè una volta poi lo butti Lo stomaco è completamente vuoto Completamente No aspetta fammi prendere i fiori Aspetta Boh prendili un attimo Faccio cagare un po' i stronzi Facciamo altre cose qua di coltivazione Maiale Maiale togliete la cazza che devo cucinare Ha cagato? Sì Io una volta per raccogliere la cazza capiterà che colpirò un maiale Saremmo morti malissimo Eh evita di farlo quando hai in mano La lancia Ma perché se lo puoi con una scelta Fai meno male Se lo do al re maiale Prova a vedere cosa succede No e lo mani Non lo vuole Che vuole il re maiale? Che vuole il re maiale? Quanti che mani il re maiale? Oh Io ricomincio con la mia avventura di ricerca Dell'amico bro Ho quattro cacche Per fare una food Ah mi servono altre cacche Io arvesto un po' di alberi Anzi coppo un po' di alberi Io continuo la mia ricerca disperata Ah comunque Quello che ho fatto di tre giorni è venuto 23 minuti Ah madone Big video L'altro problema è che per caricare mi ci vuole due ore E anche a me Il tempo sarà quello Stavo pensando di farli un pochino più lunghi per farli Far durare un pochino meno la serie ma mi sa che non conviene perché Mientano un po' troppo 15 minuti in un'ora la fai 23 minuti sono due ore Io non so che cazzo di calcolo fanno quando ti dicono Perché Con me ci conviene fare dei due giorni gli episodi Proprio due giorni spaccati Stanca a me Conviene un paio dei giorni così Anche il lavoro dietro ai video è parecchio meno contro Un po' Eh no madonna buona Mi si è rotta l'accetta preciso con l'ultimo colpo dell'albero Allegria No per fortuna perché Se ti utilizzi Ci ho buttato su un albero Poi mi si è rotta Se ci sarà un utilizzo o meno Mi tocca un cartone Un attrezzo nuovo per Per annullo Allora io però sto tiro se rifaccio Se rifaccio la pianta giorni la faccio quella più potente Perché Mi conviene Sono utili ma sono lente Troppo lente Due giorni per far crescere E Un corso Troppo troppo tempo Esagerato come tempo Purtroppo la mia fortuna non sta andando bene Un'altra cacca mi posso fare di quello più potente Precisa arriva la notte Aspetta che fa una cacca Ok è nasci, è nasciutta, si esatto è nasciutta È nata una carota e una pannocchia Il cibo nel primo non manca Ora vediamo, la pietra ci dovrebbe essere Perché sarà trovata, mi sembra Sto già diventando notte Devo già tornare in rio Ah già, ma ora i giorni si allungheranno Si accorciano sempre di più Che coglioni Ne ho ioni, eh già Il mio tempo di esplorazione è minore Non so Allora, per una food Mi servono 4 Ah no, mi serve Questo Oh merda, sto riscando di non arrivare in tempo a casa Ah, non scazzavo Chi è che l'ha rotto qua? Qua so Lolo strump Non lo so L'ho trovato rotto prima Porco 2 Non ci sparano più i gatti Ah perché venivano andati i gatti? Eh sì No, comunque Non lo so Veramente Oh, piccio il fuoco Almeno nella notte Arriva, arriva, arriva Ci vado No Ok, bravo Sono riuscito a farne due comunque di cose Così cosa Così cosa? Ho chiesto cosa qui sotto? Guarda Volevo avere statue Guarda Che cazzo è? Cos'è qualcosa? Cazzo Sarà buono o cattivo? Eh grazie È un amico o un amico? Ah, amico Credo Ma non è che è un tipo un animaletto domestico? Abbiamo fame Grazie, sto manendo di fame Eh, anch'io Ne vado subito Ok dai, mangia prima tu dai Eh? Andiamo a mangiare Sì, no, devo cuocere Ah E mangiare Minca però Forse non siamo messi così tanto bene con il cibo Ci guardo bene Pensavo meglio Infatti che il fuoco era una pianta Sì, tanto avevamo cucinare la terra Hai già messo i semi là Sì, sì 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 Ma quindi sto coso è amichevole Eh, penso Se no Ce l'avrebbe stato attaccato Io vado a prendere altre cazzo Anzi no Vado a prendere altri fiori Io voglio farmi la pianta Oh, dobbiamo bloccare Abbiamo fatto due giorni Ah, ok Ok, dopo l'aparizione dei Glomber Che non so chi cavolo sia Noi interrompiamo qui il video E ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao